Non è il numero dei provvedimenti prodotti quello che cambia il paese, quello che riforma il paese, ma sono i contenuti e le conseguenze di quei provvedimenti. Allora la mia domanda è, dopo due anni a un italiano medio, a un cittadino medio, è cambiata la vita, è migliorata la sua vita, è migliorata la propria quotidianità? A me sembra di no, a me sembra che i problemi che c'erano due anni fa sono esattamente gli stessi, anzi sono taluni, parlo per esempio della sicurezza, è anche un problema peggiorato sotto certi aspetti dovuto a quel sistema di immigrazione gestito dal governo e in più dico altresì che se ci mettiamo a confronto degli altri paesi europei, notiamo che gli altri paesi europei crescono molto di più dell'Italia, col risultato che probabilmente in materia perlomeno di politica economica questo governo è un limite alla crescita del paese, alla ripartenza del paese. I dati oggi ci dicono questo, io invito tutti a fare un giro nelle singole situazioni dei territori, dei centri urbani, vetrine chiuse o completamente vuote nei negozi, capannoni sfitti, giovani che scappano e che non trovano lavoro. La questione del Jobax non devo dirlo io, l'hanno detto analisti finanziari, addirittura l'Istat e la Banca d'Italia, che è un'operazione agevolata solo ed esclusivamente dalla decontribuzione per cui dal vantaggio fiscale, ma non sarà un vantaggio a medio-lungo termine. Quello che manca a questo governo è una strategia a medio-lungo termine e anche nel rapporto con l'Unione Europea, Renzi ieri durante l'assemblea del Partito Democratico contesta al governo tecnico cose che il Partito Democratico ha appoggiato durante quel periodo. Per cui mi sembra un controsenso unico che oramai vive quotidianamente di cose dette una settimana fa, smentite la settimana dopo e soprattutto io credo che la gente oramai se ne renda perfettamente conto.